Buonasera benvenuti a 8 e mezzo, buonasera benvenuta Michela Murgia, scrittrice, buonasera bentornata Antonella Viola immunologa dell'Università di Padova, buonasera Marco Travaglio direttore del Fatto Quotidiano e buonasera Alessandro Sallusti direttore del giornale. Allora l'Italia è ancora in grado di controllare l'epidemia o la situazione è fuori controllo? Oggi Conte dice facciamo dei sacrifici adesso per evitare interventi più penalizzanti domani, ma intanto dopo Lombardia-Campagna anche il Lazio entrerà con misure di coprifuoco. Grazie per la visione! Marco Travaglio, il Premier Conte oggi dice facciamo dei sacrifici adesso per evitare interventi più penalizzanti domani. Molte regioni per la verità lo stanno già facendo, per esempio anche il Lazio avrà il coprifuoco a partire da venerdì dopo Lombardia-Campagna, la Sardegna ha detto in serata che è pronta a fare il lockdown, altre regioni stanno adottando misure molto più restrittive. Quindi praticamente il Premier sta preparando gli italiani anche psicologicamente a una linea molto più dura. quando si dice stiamo facendo di tutto per evitare il lockdown nazionale generale 24 ore su 24 si dice che la misura estrema nel caso in cui la situazione vada fuori controllo dappertutto è quella e quindi si cerca in tutti i modi di evitarla perché? Perché l'alternativa a quello che si sta facendo adesso è il lockdown totale e con tutte le conseguenze per la vita delle persone, per l'economia e per la scuola e per tutto quanto e per il lavoro che possiamo immaginare. Quindi è un tentativo estremo di responsabilizzare ogni singola persona e ogni singola istituzione, i comuni per quello che possono fare all'interno delle loro aree, le regioni per quello che possono fare all'interno dei loro territori affinché appunto ciascuno faccia la sua parte e alla fine del mese quando si comincerà a vedere qualche effetto come speriamo che si veda di queste misure si possa dire abbiamo messo un freno e quindi non dobbiamo finire in lockdown. Altrimenti l'unica alternativa è quella di chiudere di nuovo tutto e quindi penso che sia saggio dire a tutti, se non vogliamo il lockdown dobbiamo ciascuno di noi fare la nostra parte per evitarlo, visto che fortunatamente non siamo più nella situazione di marzo, questo non bisogna mai dimenticarlo, non è che se un giorno ci sono più contagiati, più morti vuol dire che siamo a marzo, perché per fortuna ci sono enormi differenze, si sono fatte molte cose, altre non sono state fatte, ma le due situazioni sono imparagonabili, se oggi ci ritroviamo con 15 mila contagi è perché abbiamo fatto quasi 180 mila tamponi, quindi in rapporto ai tamponi credo che addirittura l'aumento dei contagi di oggi sia un pochino inferiore a quello dei giorni scorsi, sono aumentati di molto i tamponi, il problema è che bisogna poi vedere se le strutture sanitarie sono in grado di smaltirli, questi tamponi, perché le code che vediamo fuori dai drive-in per le regioni che hanno scelto la soluzione del drive-in ci dicono che spesso le strutture sono in affanno. Assolutamente, abbiamo anche nel Lazio le strutture in affanno per fare i tamponi, ma ne parleremo tra un secondo. Professore Saviola, è d'accordo con questa analisi di travaglio che è anche abbastanza ottimistica, quindi verso fine mese sapremo se queste misure restrittive serviranno e praticamente il Premier anche oggi indirettamente ha invitato gli italiani a fare l'auto lockdown, è quello che serve oggi? Sì, quello che serve in questo momento è un forte senso di responsabilità da parte di tutti, le istituzioni devono fare il loro garantendo una diagnostica efficiente, un tracciamento dei contatti che ahimè in questo momento è già spuggito di mano ma che dobbiamo in qualche modo riprendere, deve garantire che gli ospedali funzionino, che ci siano i percorsi corretti per evitare lo sviluppo di focolai all'interno degli ospedali, deve garantire i trasporti, insomma deve garantire che le regole vengano rispettate, però se i cittadini non collaborano questo non basta, non sarà mai sufficiente. L'unica cosa che mi permetto di aggiungere a quanto detto da travaglio che condivido la sua visione, tranne che per una cosa, cioè che potrebbe essere addirittura peggio oggi di quando eravamo a marzo, ma non per i numeri, sull'analisi sono assolutamente d'accordo, ma sulla visione a lungo termine, perché? Perché non abbiamo davanti l'estate, noi abbiamo davanti molti mesi di inverno, poi ci sarà la primavera, insomma prima di arrivare all'estate quando si può aspettare un calo della forza del virus inteso come un calo del contagio, non un cambiamento del virus in sé, ecco che per arrivare fin là c'è tanto tempo, noi a marzo tutto sommato abbiamo dovuto aspettare maggio-giugno, poi l'estate ci ha aiutato tutto sommato, invece adesso la situazione è problematica, perché se anche facessimo un lockdown poi ci sarebbe comunque tutto l'inverno da affrontare. Io non credo che noi possiamo andare avanti al lockdown, noi abbiamo ancora un anno duro da affrontare e l'unico modo per affrontarlo è un cambiamento di mentalità, un cambiamento di mentalità da parte degli italiani che devono capire che siamo in crisi, siamo tutti in difficoltà e ognuno deve fare la sua parte, come possiamo fare la nostra parte? Professoressa, perché un anno, più di un anno quando Conto dice che il vaccino dovrebbe arrivare alla fine dell'anno? Vuole davvero che io affronti questo argomento? Allora, a fine dell'anno non arriva. Sì, perché è un argomento che interessa decine di milioni di persone ovviamente. Certo, allora, a fine dell'anno non arriva il vaccino, entro la fine dell'anno se tutto va bene ci sarà la registrazione di un vaccino, dopodiché come ha detto anche Franco Locatelli, il professor Locatelli, il vaccino se arriva, le prime dosi arriveranno nella primavera. Però ci sono una serie di problemi che dobbiamo considerare, cioè secondo me stiamo sbagliando la narrazione, stiamo dicendo da troppo tempo agli italiani, una volta trovato il vaccino sarà tutto risolto, non è così. Mettiamocela via, non sarà così. Perché? Perché le dosi non saranno sufficienti all'inizio per vaccinare tutti, quindi saranno vaccinate un tot di persone, bisognerà fare due vaccinazioni, quindi i tempi si allungheranno. I bambini, per esempio, non possono essere assolutamente vaccinati, perché i trial clinici in questo momento non sono fatti sui bambini, stanno appena partendo, quindi tutta la fascia pediatrica sarà esclusa dal vaccino. Insomma, prima di avere tutta la popolazione vaccinata, veramente tutta, ci vorrà un anno. Come ha detto anche Fauci, si arriverà verso la fine del 2021 per riuscire ad avere la copertura su tutta la popolazione. Quindi noi non possiamo far credere agli italiani che a dicembre, quando ci sarà probabilmente la notizia, il vaccino è stato registrato, sia passato tutto. Perché servirà ancora tanto tempo prima di venirne fuori. Ed è per questo che non credo in misure così drastiche. Perché non possiamo permetterci misure drastiche per un anno, noi non possiamo bloccare l'Italia per un anno. Quindi dobbiamo cambiare davvero il nostro stile di vita. Michela Murgia, nei giorni scorsi anche la Merkel ha fatto un accorato appello ai tedeschi, ha detto state a casa, che è un po' quello che anche Conte e il governo stanno dicendo agli italiani, o non è così chiaro il messaggio del governo? Lei che idea si è fatta? E lei come si sta comportando nella sua vita? Il messaggio è chiarissimo, se uno vuole recepirlo come chiaro. Non è un messaggio coercitivo per ora, nel senso che non si presenta in forma di ordine e di divieto. Quindi siccome gli italiani sono un popolo che per una certa quota rimangono minorenni della democrazia, per cui finché non appare un padre padrone che ti dice cosa non puoi fare, tu non ti fermi da solo. Io trovo l'approccio di Conte fortemente responsabilizzante della cittadinanza. Cioè sta dicendo cosa è bene fare, sta lasciando tutti a una posizione di responsabilità. A me pare che sia... io lo preferisco democraticamente. Ho pagato molto quando invece abbiamo dovuto avere la polizia ai crocicchi di strade, che ci chiedeva dove andavamo e perché. Non vorrei tornare a quel punto, francamente. Vorrei che fossimo tutti capaci in questo momento di porci dei limiti. Per questa ragione, per esempio, io sto cancellando tutti gli incontri pubblici, non sto più accettando inviti e sto dicendo no anche a quelli a cui ho già promesso che ci sarei stata. Perché ritengo che in questo momento sia importante che i limiti sappiamo metterceli da soli per evitare che appunto poi arrivi un decreto che ci fa tornare tutti i bambini chiusi in casa. Sei d'accordo Alessandro Sallustico, Michela Murgia? Quando tu oggi scrivi che l'unica via possibile da seguire è quella lombarda, a che cosa ti riferisci esattamente? Mi riferisco al fatto che è un ultimo disperato tentativo di salvare capra e cavolo, dove la capra è la salute e il cavolo è il portafoglio. Se fallisce questo tentativo di semi-lockdown non resta che il lockdown, che vuol dire che probabilmente ci salveremo la vita, ma non salveremo il portafoglio. A proposito di questo, Travaglio diceva che non si torna più a marzo, perché da marzo a oggi sono state fatte delle cose. Vorrei ricordargli che forse la più importante, almeno per Milano e la Lombardia, è l'ospedale in fiera monocovid, che lui ha criticato, deriso, sbeffeggiato, perché era rimasto vuoto e che oggi è stato riaperto pronto a ospitare 200 pazienti in terapia intensiva. Quindi qualche errore magari l'abbiamo fatto anche noi e magari anche Fontana e Lombardia hanno fatto degli errori, ma a meno su questo l'aveva vista giusta, che serviva un supercentro di terapia intensiva. In quanto al cambiamento di mentalità e di stile di vita, evocato da più o meno tutti e evocato anche da me, però il governo ci deve aiutare a cambiare stili di vita e mentalità, perché la mugia, come me del resto, può, come dire, rinunciare a andare a fare delle serate, a presentare i suoi libri, a fare i suoi dibattiti, ma non è che il panettiere sotto casa può rinunciare a fare il pane e non essere aiutato in questo dallo Stato, dal governo, dal comune, perché se no il panettiere, mentre io e la mugia probabilmente abbiamo un po' di ossigeno e la sera mangiamo comunque, il panettiere se no la sera non mangia. Cosa voglio dire, chiudo? Voglio dire che noi dobbiamo chiuderci in casa, ma siccome qualcuno ha sbagliato, evidentemente se il risultato è questo, nelle decisioni strategiche, forse qualcuno è meglio che vada a casa invece di, come dire, invitarci a stare a casa noi, perché evidentemente qualcosa non ha funzionato. Scusa direttore, a chi ti riferisci quando dici qualcuno deve andare a casa? Beh, al governo, ma non perché ce l'ho col governo, perché è il comandante in capo, cioè se avviene una caporetto, il comandante in capo va a casa e dice no, ma non è colpa mia, è colpa del... Non ho capito, ma sei tu che con i pieni poteri hai adottato una strategia che non ha funzionato. Dopo Diaz, dopo Cadorna, arriva Diaz. Ecco, Marco Travaglio è una caporetto per il governo, come dice Sallusti, e ricordiamo che l'ospedale a Milano, nella fiera di Milano, l'ospedale anti-covid era quello voluto e allestito da Guido Bertolaso. Che cosa replichi a Sallusti? Ma non mi sembra che ci sia il clima giusto per metterci a litigare sull'ospedale in fiera. L'ospedale in fiera è costato 30 milioni, ha ospitato nella prima ondata tre persone. Di privati? Tutti i medici esperti, sono tutti soldi privati, ma buttare via i soldi dei privati è la stessa cosa più o meno che buttare i soldi pubblici, perché in quel momento tutti i medici con la testa sul collo dicevano che bisognava semplicemente usare quei soldi per implementare e incrementare i posti di terapia intensiva negli ospedali, non fare un reparto di terapia intensiva a 5 chilometri dal più vicino ospedale, perché notoriamente la terapia intensiva deve stare nel cuore dell'ospedale. Non è che uno può essere portato fuori dall'ospedale in un posto dove c'è solo la terapia intensiva. Erano critiche che hanno fatto i medici e che io ho semplicemente recepito, non essendo un medico, comunque per carità va bene anche quello, poi vedremo quanti saranno questi posti, perché il tuo giornale stamattina ha scritto che sono 53, Gallera aveva detto che erano 600, tu hai detto 200, quindi finora abbiamo visto tre posti letto occupati nella prima fase, vedremo adesso per carità, speriamo di non dover arrivare a occuparlo, perché ricordo che in questo momento per fortuna i posti occupati di terapia intensiva sono un nono rispetto a quelli che ci sono e se le regioni si fossero date una mossa e avessero usato i 2.900 ventilatori che il commissario Arcuri ha messo a loro disposizione e che ancora non sono stati utilizzati, staremmo quasi a 9.000 posti di terapia intensiva disponibili. Al momento abbiamo 900 ricoverati in terapia intensiva, quindi prima di dire che abbiamo saturato le terapie intensive come a marzo, insomma bisogna riempire gli altri 9 decimi e per fortuna ancora non ci siamo. Però per quello che riguarda il mandare a casa i governi perché c'è il Covid, secondo il principio Covid governo ladro, se deve andare a casa il nostro governo non se ne salva uno di governo in Europa, perché noi a marzo avevamo il record europeo dei contagiati, adesso siamo il sedicesimo paese al mondo per contagiati, quindi ci sono altri 15 governi che dovrebbero andare a casa. Non credo che sia la migliore soluzione per affrontare una crisi quella di spedire a casa i governi considerando il contagio, che è un fenomeno purtroppo naturale e inarrestabile, come colpa dei governi. Bisogna cercare di contenerlo, visto che è un fenomeno inevitabile fino allo spegnimento del grande focolaio mondiale. Per contenerlo ci vogliono delle politiche sanitarie sensate. Noi purtroppo abbiamo questa follia della sanità su base regionale che rende il nostro paese, ma non soltanto il nostro, pensiamo alle continue litigate che fa la Merkel con i suoi Lander, alcuni dei quali rifiutano. Quindi ci vuole semplicemente una sanità che funzioni. È chiaro che una sanità massacrata da anni d'Italia non poteva mettersi a funzionare a pieno regime in questo periodo. Hanno assunto 34 mila persone, hanno messo 7 miliardi, hanno messo 4 o 5 mila ventilatori per le terapie intensive, ci sono delle ASL che hanno risposto bene, ce ne sono altre che non hanno risposto bene. Purtroppo fra quelle che hanno risposto peggio ci sono quelle della Lombardia che sono indietro di 10 giorni a tracciare i contatti dei contagiati. Abbiamo 10 giorni di arretratto, cioè 10 giorni di contatti che continuano a circolare perché non sanno nemmeno di essere potenzialmente positivi. Questi sono dati di fatto... Rapida replica, Salusti, poi Murgia. Ti segnalo due cose, che stasera la ricetta Lombarda è stata adottata anche da Zingaretti, che mi sembra il segretario del PD, per tutto il Lazio. Io non appartengo né alla Lega né al PD, non ho mai fatto un discorso di politica. Io penso che la ricetta Lombarda sia fallimentare e se la adotta Zingaretti è fallimentare pure quella di Zingaretti. Ma nessuno ha mai pensato che il virus sia colpa di Conte. Colpa di Conte è che chi va in lockdown non è assistito, quella è colpa di Conte. Non che colpa del virus sia colpa di Conte, ci arrivo anch'io che il virus non è colpa di Conte. È tutto il resto che non ha funzionato. Mi ricollego a quello che diceva il Sallusti prima a proposito del panettiere. È chiaro che i convegni miei e di Sallusti non sono prioritari, il panettiere rimane prioritario anche se scatta un lockdown totale. Le panetterie non hanno mai chiuso neanche nel primo lockdown. Era un esempio. L'elettricista. Gli esempi si fanno appropriatamente, nel senso che è chiaro che chi appartiene alle categorie che sono considerate essenziali non ha mai smesso di lavorare. Quindi ci dobbiamo preoccupare piuttosto del terziario che ha faticato, che si è fermato, questo è evidente. Ma proprio per non arrivarci le misure del governo in questo momento invitano quelli come noi, se vogliamo, a considerare un po' superflui gli spostamenti. Quindi un po' di buonsenso aiuta. Per quel che riguarda la Lombardia io non so se si possa considerare un approccio invidiabile, è quello di dover mettere i coprifuoco, di dover mettere le restrizioni, perché di fatto è un approccio emergenziale. Cioè dire oggi che bisogna chiudere, dire oggi che una regione deve tenere i cittadini, gli esercizi commerciali chiusi, e i cittadini in restrizione è una specie di dichiarazione di resa. Significa che in tutti questi mesi, se lo deve dire un governo regionale, significa che il governo regionale sta dicendo che la situazione in quella regione è fuori controllo. Un conto è il governo che invita i cittadini a essere responsabili, un conto è un governatore che dice ai suoi che da questo momento si fa così. Sono due cose diverse. Significa che tu questi mesi, pur essendo una delle regioni che ha le risorse maggiori, perché insomma la ricca Lombardia non è certamente come la Campania, non è certamente come altre regioni in sofferenza in questo momento, non hai utilizzato questi mesi per un tracciamento efficiente, non hai utilizzato questi mesi per potenziare i trasporti, non hai utilizzato... queste cose stanno in capo alla regione, non stanno in capo al governo. Il governo le risorse le ha stanziate, poi ci sono regioni che le hanno usate in modo più efficiente e altre che non le hanno usate in modo efficiente. Fontana come Zingaretti, ci sta dicendo Fontana come Zingaretti. Perché mi cita Zingaretti? Perché mi cita Zingaretti? Io non sono del PD e anzi... Perché stasera il Lazio ha deciso di fare come la Lombardia. Non so, cioè... Non è che l'ho deciso io. È curiosa questa sua divisione del mondo in lega e il PD, cioè ci sono anche altre sommature, Sallusti, non sto difendendo Zingaretti. Mi sto domandando i governatori che in questo momento ritengono di dover agire in maniera più brusca di quanto non stia facendo il governo, forse qualche buco d'azione nei mesi precedenti lo hanno in carico. No, è perché il governo non ha il coraggio di farlo. È perché il goreggio fa lo scaricabarile il governo. Dice decidete voi, io non decido, decidete voi. E così è facile governare così. Allora, un attimo interpello la scienziata. Professoressa Viola, è così chi ha ragione? Cioè Conte questa volta non ha imposto, varato delle sanzioni troppo restrittive, lasciando la responsabilità poi ai governatori di regioni, eventualmente ai sindaci, per inasprire le regole. Ed è quello che per la verità stanno facendo un po' tutte le regioni. È l'approccio corretto questo? E poi quando Walter Ricciardi, che è il consulente del Ministro della Salute, dice che a Milano, a Napoli e forse anche a Roma la situazione è fuori controllo. Ha ragione. Ecco, noi anche oggi abbiamo avuto la segnalazione di una famiglia romana che ha dovuto fare il tampone, padre, madre, un bimbo di tre anni, che sono rimasti al drive-in per dieci ore prima di poter fare il tampone, con la giunta regionale del Lazio, che continua ad opporsi a una collaborazione con i privati, a una liberalizzazione dei tamponi. In un momento così drammatico non ci vorrebbe una intelligente e rapida collaborazione tra pubblico e privato. E la battaglia sul tracciamento dei contagi è ormai definitivamente persa? Mi ha fatto tantissime domande. Allora, io vorrei un attimo ricordare che qui non è una questione di PD, Lega, perché vediamo chiaramente che le regioni che sono in crisi in questo momento, che sono appunto Lombardia, Campania e Lazio, principalmente appartengono a entrambi gli schieramenti. Quindi non c'è chi fa bene perché è della Lega o fa male perché è del PD e viceversa. Qual è la questione? Che Milano, Roma e Napoli hanno la caratteristica di quelle città in cui il contagio si diffonde di più, perché l'abbiamo visto a Parigi, perché l'abbiamo visto a Madrid. Il contagio è ovvio che sia più diffuso, che cresca maggiormente in una metropoli, in una città grande, dove ci sono grandi scambi. Quindi teniamo sempre questo in mente, che non ci sono i buoni e i cattivi, che tutti hanno fatto degli errori, ma che ci sono anche proprio delle caratteristiche geografiche che fanno sì che il virus si diffonda di più o di meno. E cerchiamo, per favore, questo è veramente un appello, di mettere via tutte le divisioni perché siamo in una fase molto difficile della nostra storia e dobbiamo lavorare tutti insieme. Detto ciò, io ritengo che sia corretto lasciare al territorio la possibilità di fare restrizioni più o meno pesanti, proprio perché in questo momento la situazione è un po' una macchia di leopardo, nel senso che ci sono tanti fattori da tenere in considerazione. Quindi la crescita, il cosiddetto R con T, come sta crescendo quindi il contagio, ma anche la capienza delle terapie intensive, l'organizzazione quindi del sistema sanitario. Quindi a livello locale bisognerà guardare tutti questi dati e capire come agire. Non sarebbe ammissibile oggi una normativa così rigida, sparta su tutto il territorio, perché tutto il territorio non è uguale. anche all'epoca, anche quando durante la prima ondata è stato difficile per esempio imporre a delle regioni che avevano, regioni del sud, che non avevano di fatto un gran numero di contagi, un lockdown così pesante come quello del Veneto e della Lombardia. Eppure forse questo le ha protette, però nella fase in cui siamo adesso noi dobbiamo ragionare in maniera diversa e andare a studiare situazione per situazione. Io direi di più, noi dobbiamo anche cercare di capire qual è il problema in ogni città, in ogni regione e andare ad agire in maniera chirurgica identificando esattamente dov'è il contagio, dove avviene il contagio. Perché, ripeto, abbiamo tanto tempo davanti, non possiamo bloccare il paese. Non si tratta di avere più o meno stipendio. Ci sono persone che se dovessimo chiudere i ristoranti, io penso ai ristoratori, i parrucchieri, le palestre, cioè queste persone devono poter andare avanti. Non ci sono soldi per mantenerli un anno in lockdown, tutti quanti. Se ci fossero non ci sarebbero problemi, faremmo tutti un lockdown, prenderemmo lo stipendio e saremmo tutti contenti. Ma questo ovviamente non è possibile. Quindi dobbiamo agire in maniera chirurgica andando a tamponare le situazioni. Però bisogna farlo con intelligenza, identificando le criticità. Chiaro. Michela Murgia, ricomincio da lei e poi Sallusti, Travaglio, telegrafici. Conte dice che si fida degli italiani, ma gli italiani si fidano ancora di Conte? Gli italiani non lo so, io parlo per me. In questo momento sì, io mi fido. Mi sembra che la linea scelta sia quella più coerente con i dati di cui disponiamo e con la prospettiva che abbiamo davanti. Sallusti? No, io è l'inverso. Io personalmente non mi fido, ma chi se ne frega. Mi sembra di capire dai sondaggi che per la prima volta il gradimento di Conte e del suo governo comincia a flettere e questo qualcosa vorrà dire. Travaglio, questo è vero. I sondaggi dicono che è meno popolare Conte e il suo governo. Tu hai fiducia? Non so, non li ho visti e devo dirti che l'ultimo problema che ho in questo momento è se Conte ha qualche punto in più o qualche punto in meno. Non me ne importa assolutamente niente. Mi interessa molto di più capire quali cose si possono fare e quali sistemi sanitari funzionano e quali no. Uno dei problemi che noi abbiamo oggi e che ci fa ogni giorno guardare con preoccupazione al numero dei ricoveri che oggi credo si stia avvicinando ai 10.000 non in terapia intensiva nei reparti ordinari e che è stata completamente smantellata in alcune regioni in particolare ma in generale in quasi tutta Italia la medicina di base, la medicina sul territorio per cui se uno ha 38 di febbre dove va in ospedale? Il professor Remuzzi ha detto abbiamo un sacco di ricoverati che potrebbero essere curati a casa e lo stesso riguarda i tamponi, i drive-in. Perché fanno i drive-in? Perché non esistono sufficienti medici di base e medici di famiglia che dovrebbero essere quelli che li fanno. Allora, quando io vedo che ci fanno delle riforme come quella che purtroppo è stata fatta, anzi le due riforme che sono state fatte in Lombardia prima da Formigoni e poi da Maroni che hanno desertificato la medicina di base e quando sento che Giorgetti due anni fa al meeting di Rimini irrideva al medico di famiglia dicendo che era roba da secolo scorso ti segnalo in quale mani è finita la nostra sanità e purtroppo la nostra sanità è finita nelle mani delle regioni e quindi deve essere al più presto riportata nelle mani dello Stato centrale perché se si chiama servizio sanitario nazionale deve essere nazionale e non affidata a qualche spostato che si fa chiamare governatore. Allora, la prossima volta Salusti potrai rireplicare io però adesso vi voglio far vedere il punto perché la Cina sapete è il primo paese che è stato colpito dal coronavirus è anche quello che è ripreso a correre sentiamo Paolo Pagliaro La Cina è stato il primo paese ad essere colpito dalla pandemia ed è stato il primo a uscirne grazie a un insieme di fattori che hanno a che fare con la scienza, la tecnologia, l'autodisciplina e la natura autoritaria del sistema politico ora la notizia è che la Cina sembra essere tornata in pieno boom economico lasciandosi alle spalle il crollo meno 6% del PIL registrato nei mesi del coronavirus Pechino dichiara un aumento della produzione del 4,9% rispetto al trimestre precedente e il cosa ancora più impressionante è un aumento dello 0,7% rispetto all'anno scorso nelle borse di Shanghai e Shenzhen ci sono state nuove quotazioni per un totale di 47 miliardi di dollari la crescita è trainata soprattutto dalla domanda interna con un aumento consistente delle vendite al dettaglio dopo la pandemia torna a salire insomma il tenore di vita dei cinesi e il fenomeno riguarda da vicino anche l'Italia non solo perché è di buon auspicio ma anche perché l'anno scorso il Made in Italy aveva esportato in Cina beni per 13 miliardi di euro durante il lockdown il volume dell'export era crollato e ora ci sono le condizioni perché la tendenza si inverta continuano a mancarci invece i 3 milioni di turisti cinesi che l'anno scorso avevano visitato le nostre città d'arte frequentato le nostre boutique è soggiornato nei nostri grandi alberghi oggi tutti ancora desolatamente vuoti i cinesi sono pronti a ripartire appena saremo di nuovo pronti ad accoglierli Siamo in chiusura grazie Michela Murgia grazie professoressa Viola grazie Marco Travaglio grazie Alessandro Sallusti grazie spettatrici e spettatori vi lascio ad Andrea Purgatori e al suo Atlantide dal titolo Minority Report e naturalmente c'entra la pandemia e noi come sempre ci vediamo domani 8 e mezzo sempre da casa grazie, arrivederci grazie a tutti